Oggi fai il sindaco, almeno per un giorno, per un giorno, per un giorno, per un giorno. Inportalatrono questo evento perché sarà il primo e l'ultimo. Bravo. Sto spezzando. Stai tranquillo. Stai tranquillo. E poi. Fai una recita a Corsese se c'è i gradi elettorali. Siamo in diretta. Allora faccio la pelle. Angrisano. Presente. Fornato. Presente. Fugi. Presente. Ferraiolo. Presente. Di Giacomo. Presente. Allora. Capitiate tutti assenti. Sì. Presidente. Poi lo blocchiavamo. Sì, non lo blocchiate. I blocchiate. Ah sì, di tutto. va bene la comunità va bene ma al di là della comunicazione del portiere non ha ricevuto dei termini previsti nell'avviso del contiglio comunale quindi è necessario di inviarlo ci serve nei termini probabilmente sarà chiaramente riceveremo tutti quanti una nuova notifica non lo sappiamo il 31 è quasi certo dobbiamo solo verificare se di mattina o di pomeriggio anche per verificare la disponibilità poi per la trasmissione va bene non lo so va bene va bene va bene va bene va bene a me dispiace solo fare un lavoro